Buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con Unica Talk Sondrio. Ospite di questa serata è il neo eletto per il secondo mandato sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, partiamo dai numeri per questa novità fresca di ieri notte. Il 58% dei consensi per lei e la sua compagine, la prima lista quasi al 22% Sondrio Viva, definita la lista del sindaco, fin dall'esordio insomma. Un consenso che significa la rielezione al primo turno diretta. È soddisfatto di questi risultati? Sì, sono molto soddisfatto. Ringrazio i cittadini per la fiducia rinnovata. Ringrazio tutta la compagine, le molte persone che si sono messe in gioco con entusiasmo, con attenzione, con serietà. Ringrazio tutti, il risultato è veramente importante. Non ci aspettavamo un risultato di questo genere e quindi siamo contenti. Una campagna elettorale che è stata breve, con tanti incontri diciamo ravvicinati, e anche tanto interesse intorno a quello di cui si parlava in questi mesi. Cosa c'è stato di differente da quella di cinque anni fa nelle richieste della gente? Ma per noi la differenza è stata, innanzitutto, la durata temporale. Questa, come diceva lei, è stata compressa. Ma poi noi in questa tornata uscivamo da cinque anni di amministrazione, quindi giustamente i cittadini potevano giudicarci per quello che in cinque anni abbiamo fatto. Quindi anche le istanze, le richieste che arrivavano erano concentrate su provvedimenti fatti o provvedimenti da assumere. Quindi è stata un po' differente. Però il bello è che comunque il contatto con la gente, il contatto con i cittadini, arricchisce, fa capire anche a chi amministra quali sono le istanze, come deve muoversi, se deve modificare il proprio atteggiamento. E anche i gruppi si equalizzano, si compattono. È stato bello, bello. C'è stata, se c'è stata, una critica che l'ha colpita particolarmente nell'ascolto della gente e delle istanze che sono venute dalla gente e un complimento anche al vostro operato o personale, se c'è. Sì, beh, critiche ce ne sono molte, ma direi quasi tutte costruttive. Quindi la gente chiede o si lamenta per servizi che non sono stati resi o che magari vanno migliorati. E questo è quello che la gente deve fare nei confronti degli amministratori. Come apprezzamenti, io citerei quello che avevo citato all'inizio di questa campagna elettorale, quindi una signora anziana che mi ha fermato per strada, che io non conoscevo, e mi ha detto che lei è una brava persona. Ecco, questo mi ha fatto piacere, perché è importante che chi amministra dia il buon esempio, nel limite delle proprie capacità, che cerchi di operare correttamente, con serietà, e noi abbiamo cercato di farlo. Sindaco, una valutazione necessariamente va fatta sull'affluenza alle urne. Rispetto alla tornata elettorale di cinque anni fa, siamo passati dal 58 al 54%. Un calo, come valuta lei però questo dato? Sì, io ero preoccupato, visto il trend nazionale, che il calo fosse ancora più pronunciato. Abbiamo avuto un recupero rispetto alle regionali, quindi il calo c'è stato, ma non così importante come temevo. Resta il fatto che comunque la gente tende a non andare a votare, e questo deve far preoccupare tutti, perché le lamentele poi ci sono, ma se quando è il momento non si va a votare, non si scelgono i propri rappresentanti, e i programmi che questi rappresentanti portano avanti, ecco, dopo non ci si può lamentare se le cose non vanno bene. Dovremmo riflettere tutti a livello nazionale per capire come mai questo fenomeno sta avanzando. Rispetto alla prima esperienza da sindaco, trova un vantaggio ad avviarsi per un secondo mandato? Beh, direi di sì. Direi che conosciamo la macchina, conosciamo le problematiche, le potenzialità, quindi abbiamo già un lavoro impostato, molte iniziative sono in itinere, e quindi partiamo già lanciati, diciamo così. Dobbiamo tener conto di tutte le questioni che abbiamo in ballo, ecco, certo, io spero che questo secondo mandato sia più tranquillo rispetto al primo, perché abbiamo gestito cinque anni con due anni e mezzo di pandemia, quindi questo ha condizionato fortemente le priorità del nostro programma, e quindi se, come assolutamente sono convinto, questa pandemia ormai ci sta lasciando, spero che riusciremo a lavorare con più tranquillità. Diceva priorità che avete illustrato nel programma, così come gli obiettivi principali o la linea che intendete tenere, quella di mettere al centro le persone, eccetera. Bisogna però ricordare che da un mese prima delle elezioni l'attività amministrativa è stata relegata all'ordinaria amministrazione perché la legge così prevede. C'è sul tavolo qualcosa di urgente che affronterete nelle prossime settimane? Sì, come dicevo, noi abbiamo varie iniziative nitinere, sicuramente le prime urgenze sono le manutenzioni dei territori, in particolare delle strade, dei marciapiedi, per queste abbiamo già appalti in corso, abbiamo già appalti assegnati, quindi a breve partiranno, c'è un coordinamento da fare sulla città per evitare di creare troppi disagi ai cittadini, quindi direi che sui servizi non si è mai fermata la macchina del comune, anche perché ci sono i dipendenti comunali che lavorano il meglio e portano avanti tutto quanto necessario, ma anche sulle attività, diciamo, più da lavori pubblici e manutentori il tutto è proseguito cercando di prepararsi poi per riprendere il lavoro nel più breve tempo possibile. Ad oggi abbiamo già, insomma, indicazioni precise, definitive, oltre che sui dati elettorali più stretti, anche sui consensi personali ricevuti attraverso le preferenze. Questo condizionerà o dà già la possibilità di delineare anche una giunta, posto che certo saranno valutate anche le competenze, insomma tante altre cose, di una giunta comunale per questo mandato che si appresta a partire? Sì, io come nel primo mandato non ho assolutamente pensato ai nomi per la giunta prima, non mi sembra corretto, perché io ci tengo che tutte le persone che partecipano alle elezioni, nelle varie liste, possano essere messe sullo stesso piano e possano confrontarsi serenamente. A brevissimo ci troveremo, sicuramente terrò conto dei consensi che le singole persone hanno ricevuto, sicuramente anche però delle competenze, perché è importantissimo che chi lavora e mette a disposizione le proprie competenze, le porti con sé, come abbiamo, devo dire, fatto nel primo mandato, le competenze sono importanti. Però vedo che i risultati elettorali hanno dato, diciamo, delle indicazioni abbastanza interessanti e a breve ci siederemo per trovare una condivisione che sicuramente troveremo in breve tempo. Siamo a martedì con l'ufficialità dei dati, questo pomeriggio verrà anche la proclamazione ufficiale del sindaco, che fa di fatto decadere la giunta e mette in capo al sindaco proclamato tutte le funzioni in attesa poi dell'insediamento e della nomina della giunta. C'è già un tempo per l'insediamento del Consiglio? Avete qualche idea? No, non abbiamo fatto previsioni, anche perché in questi due giorni volevamo anche riposarci un po'. Io sono già stato comunque questa mattina in Comune. Il fatto di essere sindaco uscente mi dà anche la possibilità veramente di lavorare da subito in continuità. Però, ecco, cercheremo di non perdere assolutamente tempo. Come dicevo prima, però, la struttura del Comune è veramente molto ben organizzata e quindi i servizi ai cittadini sono comunque garantiti. Non perderemo tempo, però, assolutamente. Sindaco, un'ultima cosa sulla campagna elettorale che si è appena chiusa. Dall'inizio avete deciso, e bisogna dire la linea è stata seguita da tutte e tre le compagini che correvano con un candidato sindaco, di mantenere toni pacati, corretti. ha pagato questa strategia, questo modo di essere poi alla fine. Sì, per quanto mi riguarda, io non parlerei di strategia perché questo è il mio stile in questa, diciamo, in questa iniziativa amministrativa, ma anche nella mia vita professionale, personale. Quindi io sono fatto così. Rilevo che anche gli altri candidati hanno veramente condotto una campagna elettorale seria, hanno presentato le loro idee, io li stimo entrambi, ci conosciamo da tempo e questo secondo me è stato un bel esempio da dare ai giovani, da dare ai cittadini, perché io penso che i cittadini siano stufi di sentire politici che urlano, che si insultano e magari lasciano da parte quello che è veramente l'interesse dei cittadini. Io penso che questa sia la strada. Noi dobbiamo lavorare per i cittadini, siamo anche noi dei cittadini, temporaneamente investiti di un incarico, ma proprio per svolgerlo bene dobbiamo pensare prima di tutto all'interesse dei cittadini. Di buona ospicia anche per il lavoro di un Consiglio Comunale costruttivo, no? Sì, ma noi usciamo da cinque anni, come dicevamo, molto impegnativi, ma dove il Consiglio Comunale ha lavorato in armonia. Ciascuno ha portato le proprie stanze, spesso non erano coincidenti tra loro, ma abbiamo sempre trovato il modo di confrontarci, di uscire anche con risoluzioni condivise spesso. Ma questo è quello che dobbiamo fare, io non vedo un'altra strada, a meno per quanto mi riguarda e quindi ho ringraziato alla fine dell'ultimo Consiglio Comunale, ho ringraziato tutti perché questo è il modo, secondo me, di operare. Grazie Sindaco, grazie di essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a voi e grazie a tutti i telespettatori. A tutti voi io auguro una buona serata e l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti i telespettatori.